La scuola audiofonetica ha 160 anni di storia e offre un percorso formativo completo, dal nido alla scuola secondaria di primo grado. La Fondazione Bresciana per l'Educazione Monsignor Giuseppe Cavalleri gestisce la scuola dal 2013. Il primo report di impatto è il coronamento di anni di lavoro della scuola audiofonetica e lo sforzo della Fondazione Cavalleri, con il supporto metodologico e operativo di Altis, alta scuola, impresa e società dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, obiettivo una rendicontazione oggettiva dell'impatto. La nostra mission è valorizzare la personalità di ciascun alunno, le sue competenze e la sua integrazione nella società. Riserviamo particolare attenzione dunque agli alunni sordi o con altre disabilità. I nostri alunni aumentano più 35% negli ultimi 5 anni, da 401 a 570 nell'anno scolastico 2020-2021. Il 16% è rappresentato da alunni sordi o con altre disabilità. Un corpo docente doppio rispetto alle altre scuole e la figura di specialisti necessari a garantire sviluppo e integrazione. Ogni anno chiediamo ai genitori che cosa pensano del nostro operato e i dati sono sempre incoraggianti. Ci sta molto a cuore anche il parere e la soddisfazione dei nostri docenti. Il nostro fiore all'occhiello è l'innovazione pedagogica e didattica, in particolare sul tema sordità ed inclusione scolastica. Una rete di relazioni fitta e sinergica molto estesa, oltre al territorio bresciano, che include Brescia, Bergamo e altri comuni, le ATS della Lombardia, l'azienda ospedaliera Aspedali Civili di Brescia, l'ente sordi di Brescia, con l'Università Cattolica del Sacro Cuore, con le Università Statali di Bergamo, Verone e Padova e le scuole secondarie di secondo grado. La valutazione dell'impatto della didattica di audiofonetica abbraccia tutti gli indicatori. L'educazione e la cura impattano anche sulla famiglia e sulle relazioni degli studenti con tutte le figure legate all'ambito familiare e scolastico. Scuola audiofonetica ha seguito mio figlio fin dal primo giorno, dandogli fiducia in se stesso. Ha dato alla mia famiglia molta serenità e la certezza che viene fatto tutto il possibile perché mio figlio possa imparare secondo le sue capacità. L'educazione e la cura impattano anche sulla famiglia e sulle relazioni degli studenti con tutte le figure legate all'ambito familiare e scolastico. Il parere dei docenti sull'impatto della scuola sui bambini è molto incoraggiante. Amo molto questa scuola. È una scuola unica che appassiona e regala emozioni fortissime. Amo molto questa scuola.